Torniamo alle immagini e alle parole che il Papa Emerito ci ha lasciato. Sara Lucaroni ha curato il video con gli ultimi gesti del Pontefice che ha lasciato il Magistero Petrino. Vediamo. Non abbandono la croce, ma resta in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera, resta, per così dire, nel centro di San Pietro. E tra voi, tra il codice cannesi e anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaccio in questa terra. Ma vorrei ancora, col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa dell'umanità. Grazie.